La collezione Run Visible di Brooks è la risposta a una domanda che ci viene fatta molto spesso. Qual è l'abbigliamento ideale per correre alla sera o in condizioni di scarsa luminosità? Quando le giornate si accorciano e le ore di luce diminuiscono, noi runner siamo spesso costretti ad uscire in condizioni di scarsa luminosità. Per questo consigliamo l'abbigliamento le scarpe Brooks Run Visible che sono provviste di parti rifrangenti posizionate nei punti strategici per aumentare la propria visibilità fino a 180 metri di distanza ed essere ben visibili dalle auto quando si corre sul ciglio di una strada o in un parco. Abbiamo testato la tecnicità e le proprietà catarinfrangenti di giacca tight e scarpe con differenti condizioni di luminosità e le nostre aspettative sono state rispettate. La giacca Run Visible Convertible e i leggings garantiscono la massima visibilità grazie agli inserti rifrangenti e fluorescenti ad alta visibilità 3M scotch light carbon black stretch. La giacca offre anche un comfort eccezionale grazie al cappuccia scomparsa e la possibilità di riporla in uno zaino integrato trasformandola in un pratico gilet. I tight invece grazie alle cuciture ridotte al minimo mantengono intatta la sensazione di benessere sulle gambe. Per rendere la nostra sagoma visibile durante i movimenti della corsa anche la maglia manica lunga Run Visible presenta inserti rifrangenti e fluorescenti posizionati su spalle e avambracci. Per essere visibili dalla testa ai piedi completano i nostri outfit le nuove Ghost 14 e Glycerin 20 della collezione Run Visible dotate anch'esse di inserti riflettenti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.